Lo sai cosa fa, lo sai con chi va, con chi si vede, il pomeriggio, dopo palestra, verso le sei, lei sale da lui, all'ultimo piano, lei va da quell'uomo, un uomo maturo, si dice sposato, tanto più grande di lei, ma sa che cosa faranno, che cosa diranno, per più di due ore, si toccheranno, si baceranno, a se suo padre sapesse, qualcuno di noi con un po' di coraggio glielo deve dire, e che diamine qua, ci vuole sicuro un po' di moralità, ma la gente non lo sa che... Federica ha quindici anni, anche se una donna è, così la gente vede il male, anche dove non ce n'è, Lei sta con i grandi e non frequenta, quelli della sua età, La gente la distruggerà, la gente la distruggerà, si dice che sì, si dice che no, Eh, ma vedrai, 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 qualcosa ci sarà, metti la paglia sul fuoco, e un incendio poi scoppierà, lui l'hanno cacciato, allontanato in un'altra città, E si dice che a lei, può fare delle adate, di santa ragione, adesso sta chiusa in casa, per un bel pezzo, non uscirà, Vedi un po' di coraggio, e certe puttane, vanno punite, e che diamine qua, ci vuole sicuro un po' di moralità, Ma la gente non lo sa, che Federica ha quindici anni, anche se una donna è, Così la gente vede il male, anche dove non ce n'è, Lei sta più grandi e non frequenta, quelli della sua età, Oh maledette e maledique, la gente la distruggerà, Federica ha quindici anni, anche se una donna è, Oh maledette e maledique, la gente la distruggerà, La gente la distruggerà,